Annalambane l'efficacia per questo avviso? E con quattro modo ti analambane l'efficacia? No, sono io il responsabile. Per me è sempre l'allenatore. Lo pensavo da giocatore. Il capo di una squadra è l'allenatore. Per cui in questo momento noi abbiamo fatto soltanto un punto su quattro partite. Abbiamo perso tre volte, abbiamo pareggiato soltanto una volta. In casa non abbiamo mai segnato, per cui il responsabile sono io. Ego pistevo che il proprone tis è un impeccionato. Ficino che io sono impeccionato. Perché io sono impeccionato, perché io sono impeccionato che il proprone tis è un impeccionato. Ora, io sono impeccionato per le ragazze, non abbiamo segnato il collante o sèdra. Abbiamo solo un basso ora e credo che io sono impeccionato. Il risultato è un' questa stagione. Per me è una cosa che sono gli italiani, qualcosa deve cambiare. 23 paese, 24 non possono farciare la squadra. Sì, pensate che è una paese di attività, dopo l'efficio, dopo l'efficio, dopo l'efficio, dopo l'efficio. Non, non penso in questo momento non ci sto pensando, le cose non vanno mai fatte a caldo, bisogna sempre pensare a l'efficio. Non credo che dovremmo fare le decisioni in termo, dovremmo vedere l'efficio, dovremmo fare le informazioni, dovremmo fare le informazioni, e io vorrei rimanere l'efficio dell'efficio. Grazie mille.